Macro categoria Imprese, categoria Health Care & Pharma. Il premio è quello di Eccellenza dell'anno Innovazione & CSR Pharma. La motivazione è questa, per confermarsi nuovamente un leader del settore in grado di puntare su ricerca e sviluppo, responsabilità sociale e trasparenza per valorizzare il talento e l'innovazione, contribuendo in modo attivo a cambiare il domani, come recita il suo motto, per la salute e la crescita dei propri dipendenti e dell'intera comunità. Il premio va a Astellas Pharma. Ed è un piacere avere qui con me, quindi lo invito subito a raggiungermi sul palco, l'amministratore delegato di Astellas Pharma, Giuseppe Maduri. Grazie, grazie per il premio, grazie mille. Ecco, lo può stringere ancora un istante tra le mani e poi lo faccio, lo appoggiamo ancora un istante qui e la faccio accomodare perché chiaramente mi piacerebbe subito sapere che cosa significa questo riconoscimento per lei, per voi. Beh, condivido questo momento con tutte le persone che lavorano con me, un momento straordinario di riconoscimento all'attività che noi svolgiamo ogni giorno. A volte ci chiediamo qual è il senso dell'attività che svolgiamo e credo che quando l'attività che svolgiamo viene riconosciuto da un premio così prestigioso, credo che sia un elemento in più per continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi grazie alla giuria. Per noi è un piacere naturalmente poter parlare di quello che fate e proprio io partirei dal premio che assegniamo a voi oggi. L'eccellenza dell'anno innovazione è in CSR Pharma, due ambiti, partiamo dall'innovazione. Insomma, che cosa significa per voi, come l'avete declinata questa parola che peraltro diventa sempre più centrale? Sì, grazie. Io mi accingo a concludere i miei primi 20 anni all'interno del settore Pharma e mi sono trovato sempre dinanzi a un quesito relativo al modo migliore per poter fare impresa nell'ambito del pharma. E devo dire che ho avuto la fortuna, lavorando in Astellas, di poter cogliere al meglio questa situazione perché l'innovazione fa parte del DNA di Astellas, che è l'azienda che rappresento in Italia, perché da anni è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi attraverso un modello di ricerca che è unico nel settore perché cerca di conciliare tre direttrici che vanno dal disease alla biologia alla tecnologia. E questo ci ha messo nelle condizioni di poter cercare di aggiungere valore. Aggiungere valore ovviamente ai pazienti, soprattutto in delle aree dove oggi non esiste un trattamento terapeutico in linea con la diagnosi che ricevono tanti pazienti e quindi per noi è un grandissimo orgoglio cercare di continuare ad investire quasi il 20% delle nostre risorse in ricerca e sviluppo e in aree così particolari che possono cambiare la vita dei pazienti. Poi per continuare abbiamo sentito il motto è cambiare il domani, poi sui saluti torniamo su questo vostro motto. Ecco il secondo ambito è il CSR Pharma, quindi anche qui le chiedo come viene declinato in base alla vostra mission. Sì ci sono diversi aspetti, per un attimo vorrei riparafrasare qualcosa che un mio collega che stimo tantissimo mi ha raccontato nel corso di questi 20 anni e continua sempre a ripetermelo. Mi fa Giuseppe tu devi distinguere sempre un'azienda grossa da un'azienda grande. Un'azienda grande è un'azienda in grado di riversare sulla società tutto quello che fa e già questo lo facciamo perché nel nostro settore cerchiamo di generare valore come dicevamo prima per la salute dei pazienti e di aiutare tante persone a stare meglio ma non è sufficiente perché l'innovazione richiede anche una modalità importante per essere sostenuta e per essere sostenuta bisogna cogliere tanti aspetti. Innanzitutto cercare di rendere questa innovazione accessibile e questo è il primo punto che secondo me dobbiamo considerare perché avere l'innovazione e non dare la possibilità ai pazienti di essere trattati ritengo che sia uno sforzo inutile. Quindi la responsabilità dell'azienda è quella di cercare sempre di aiutare il sistema salute a sostenere l'accesso dei farmaci innovativi. Ma poi ci sono tanti altri aspetti, a incominciare delle persone. Le persone credo che siano l'elemento chiave all'interno di un'organizzazione. Io continuo a ribadirlo sempre, per me non sono importanti le competenze. Ho sempre avuto la fortuna e la volontà di circondarmi di persone con un assetto valoriale forte e condiviso perché da questo parte tutto quello che le sto dicendo perché avere delle persone con dei valori forti e quello che penso di avere oggi è questo, un assetto valoriale forte all'interno delle organizzazioni ti permette poi di avere impatto su tanti aspetti. A incominciare dall'accesso, dall'innovazione ma dare la possibilità, per esempio, a tutto il capitale umano che noi abbiamo all'interno dell'organizzazione di stare bene all'interno dell'azienda. Oggi continuo a condividere con tutti i miei colleghi che la mia ambizione e il mio sogno è quella di sentir dire da loro che stanno bene all'interno dell'organizzazione. E per fare questo ovviamente mi metto dalla loro prospettiva e come leader di un'azienda cerco di soddisfare tutte le richieste che ci sono quindi dando maggiore flessibilità sul lavoro. Oggi non abbiamo degli orari fissi, per esempio, non c'è la possibilità di lavorare. Poi la situazione del Covid ha accelerato questo processo ma di lavorare da casa con flessibilità totale, puntare anche alla loro salute attraverso campagne di vaccinazione e di aiutarli a cercare di capire come bilanciare bene l'attività personale e lavorativa. Assolutamente, perché poi rientra nel benessere generale? Questo è uno. Poi abbiamo un secondo punto che riguarda tutta la società e quello che le dicevo prima, noi abbiamo una responsabilità enorme di contribuire a rendere questo mondo più sostenibile. Leggevo proprio ieri una ricerca di mercato che mette in evidenza come a valle del Covid 9 persone su 10 hanno il sogno di vivere in un mondo migliore e questo è un indicatore importante sia come prospettiva ma vuol dire che oggi la qualità di vita verosimilmente deve essere migliorata e ci sono tantissime situazioni dove noi interveniamo e lo abbiamo fatto sia in occasione del Covid aiutando e donando dei dispositivi di protezione alle persone che ci hanno messo nelle condizioni di superare la prima fase adesso ci stanno aiutando a superare la seconda fase che sono gli operatori sanitari. era difficile identificare, avere la disponibilità e noi ci siamo riusciti abbiamo donato circa 100.000 mascherine ovviamente questo non basta perché il Covid ha messo in ginocchio diverse famiglie e stiamo sostenendo tantissime attività di raccolta fondi per aiutare delle famiglie che purtroppo non hanno le condizioni per sostenere la propria vita quotidianamente. Quello è importante, il concetto di comunità e qui ci si ricollega facilmente a quello che lei ha detto nell'incipit cioè che si fa la differenza tra una grossa azienda e una grande azienda è presto detto perché. Beh, per salutarla a questo punto come cambiare il domani? Così riprendiamo il vostro motto. Secondo me il domani si può cambiare pensando alla responsabilità individuale che ha ognuno di noi. Noi possiamo fare tanto come organizzazione ma ritengo che il vero driver sarà la responsabilità che ognuno di noi può avere, tutti anche lei nel cercare di aiutare il nostro modo di vivere e di aiutare quelle nuove persone che hanno dichiarato di, forse ci siamo anche noi di voler vivere in un mondo più sostenibile di fare qualcosa di concreto non è difficile bisogna crederci in questo e basta a volte poco perché secondo me dobbiamo un attimo tutti riflettere su quelle che sono l'essenza della nostra attività che nel settore farma riguarda ovviamente lo sviluppo e le ricerche dei farmaci ma come individui credo che sia fondamentale rimettere in fila le priorità Siamo tutti anelli della stessa catena quindi alla fine non è che possiamo ragionare sì, talvolta come singoli ma poi alla fine come comunità e guardi che io l'ho già accolta la sfida di contribuire tutti quanti quindi assolutamente guardiamo in questo modo al futuro come cambiare il domani Grazie a Giuseppe Maduri amministratore delegato di Astellas Farma questo glielo riconsegno resti pure a tutti seduti accanto a me premio d'eccellenza dell'anno innovazione NCSR Farma complimenti ancora Grazie, grazie mille Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.